Amo il biscotto di orso. Guarda le mie allocchette. Bello. Molto buono. Guarda. Bello. Bello, l'ho visto, è bellissimo. Adesso andiamo alla villa per i pato. Ciao. Ciao. Presto ci sarà la challenge. Robazzi, ho un piccino colo bambino. Presto ci sarà la challenge che è stata richiesta da... non ricordo il nick. Quindi ci sarà presto dopo questo video la challenge. Questa challenge consiste nel parlare con qualcosa in bocca in modo che lei dovrebbe capire cosa io dico. E io pure con la calza. La stessa cosa. La calza oppure lo scotch. Ma è meglio la calza perché lo scotch si appiccica tutto e fa male. Ciao amore mio. Salutati. Ciao a tutti. No, però... Si prende vergogna. Ciao lolo. Ciao lolo. E il suo saluto. Tra poco andiamo al passo. Ciao ragazzi. Ciao lolo. Non si può andare dentro. Vedi le tartaruga? Fa la bua. Fa la bua. Vedi? No. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vedi? Insieme alle tartarughe stanno gli uccellini. Amo. Bello. E quella è la tartaruga. Sto cercando di capire perché hanno messo invece delle piante, cioè invece dei mattoni, le piante. Sto cercando di capire. Non si può andare dentro. Non si può andare dentro. Vito andiamo alla salena. Vito? Stai giocando, mu. Ciao Vito. Aspetta che io faccio da... Aiuto! Aiuto! Un naufrago! Un naufrago solo! Aiuto! Aiuto! Danno ma... Pippi! Bravo! Come guida! Stai di qua! Vai, gira! Mantieni di qua! L'ho sempre fatto questo. E papà va a fare? Ma ha detto aspetta che vado a trovare il posto. Vai! Non l'ho appena vista più da... Mantieni di qua! Mantieni di qua! Mantieni di qua! Vito! Vito! Si, c'è la papà andrà. Mantieni di qua! Vito! 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 Piano! Sali Vai 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 Dai Dai di qua Piano Piano Aspetta che Mantente No lascerò stare Mantente di qua Uno qua e uno là Bravo Toglietevi o che lo devo riprendere Una Via Via Ciao Prima volta Tete Guarda la nana E si sta Non guarda Guarda Si prende vergogna La mano La mano Esci la mano Vito la mano Non c'è da cadere Abbandonando No C'è da cadere Si fa No Marcello Esci la mano La nana Esci Esci E via Mamma Anche a me E si sta Tozzo tozzo Uno due Uno due Uno due Uno due E' movito E' finito Oh guarda qua Guarda la nonna Gira La testa Ciao E' finito Uno due E tre Via Di nuovo Di nuovo Di nuovo Miuffi Miuffi Bravo Vola Guarda la mamma Vola 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 Mamma di che color è la mamma Rossa Vola Vito Evviva Belli Quanti sono belli Cucchi eh Bopi 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 No Fanne dare una a lui Vito Le diamo acqua qua Ecco qua La mamma Ma io ho fame Per la mamma Andiamo alle paperelle Andiamo dalle paperelle Vito Vito Dalle paperelle E come camminiamo Dobbiamo andare Ci abbiamo le patatine Ci abbiamo le patatine Alle paperelle Stiamo andando Dalle paperelle Siamo alla villa Per i pato E' giusto Per far giocare Un po' lui Ha fatto la giostrina Il trenino Perché questi bambini Non escono mai Quindi Un po' di svago Ci vuole E' giusto Dagli a muo Pochino Se no si arrabbiano Dagli Ma dove è strano Basta Vito Le diamo le papere Ciao 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 Vito Andiamo alle paperelle Vai Ramona Faccio Vai Allora esistono le papere Guarda con il bambino Il bambino Mangia Mangia Uh Come mangia Guarda Stanno mangiando le patatine Tieni Via via Guardate Questa qua è la patatina Di Barbie Io la butto Allora la mangia Non è proprio Non è proprio No Vedi quanto Sono belle Vedi questo Vito 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 Non puoi entrare La nonna La nonna Non apri la coda Che bella coda Che bella coda Che belli colori Non ti arrabbiare Vito io sto mangiando la gomma Vito ti sei divertito? a metà come no? sta sempre arrabbiato abbiamo visto le paperelle i piccioni adesso andiamo a casa della nonna a fare la pappa a casa della nonna andare Vito devi andare a casa della nonna non vedo l'ora di fare quella challenge verrà benedetta quella ragazza o ragazza che ha chiesto questa challenge no le botte andiamo a casa della nonna dove vuoi andare? a casa della nonna o a casa? no non voglio salutate e a me mi vuoi? la nonna la vuoi? la nonna la vuoi? si o no? si o no? no 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 senti andiamo a casa da Nancy o dalla nonna? io più io andiamo a casa da Nancy o dalla nonna? non me non me no ha finito? ha finito? bravo bravo ha finito pure lui qua tutti puliti bravo 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 signor Paolo bravo signor Paolo bravo 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 deve bere l'acqua adesso un poco di acqua ma vieni va bene bevi dai bevi l'acqua signor Paolo bevi l'acqua quello è signorino Faulino Faulo bevi l'acqua Vito è Faulino quella Faulo dai bevi l'acqua signor Paolo bevi l'acqua vediamo bravo ma quanto è bravo il signor Faulo e adesso sto facendo le crepe me la stavo mangiando da poco e anche loro stanno mangiando la zia è venuta a casa siamo andati dalla nonna da tutti i pene di nuovo io ehi ma non si mangia e si toccano i piedi devi mangiare la crepe stiamo mettendo i cartoni dai dai basta basta grande fratello stasera deve uscire tra Giulia e Samantha e Samantha spero che sia Samantha ma non si toccano i piedi e poi si mangia ehi sono a fare le crepe non riesco a capire perché il mio gatto vuole assaggiare tutto trova qualsiasi cosa qualsiasi cosa trova adesso stavo puntando alla marmellata ma qualsiasi cosa trova vuole mangiare qualsiasi cosa anche le bricioline del pane del dolce non si fa e niente sono sommersa dei piatti da lavare però non fa niente l'importante è che si divertono stanno in compagnia e mangiano qualcosa di buono e niente adesso sto facendo le altre crepe e poi e poi basta dopo si cena sono le 6 e 30 ancora è presto ovvero le 18 e 30 lento